In collegamento da Castelluccio Dei Sauri per la quinta del convegno, il premio Zabba Ione Spav. E' una Maiden per tre anni, ovviamente gentlemen in sediolo. Undici concorrenti al via, in prima fila Favola LZ, Felipe LL, Fuga di Notte Sun, Firecracker TC, Flash LZ, Francis Deari, Fuoco LZ, Flavia. Seconda fila per Frank Valsan, Floschar e From the Top LF. Gioco ancora aperto, Firecracker TC, il punto di riferimento per gli scommettitori, contro Felipe LL. Macchina a 150 metri dal punto dello stacco. La prende lanciata Favola LZ lungo lo steccato. Stacca l'autostart con Fuga di Notte Sun in vantaggio con all'esterno Firecracker che prova a ripiegare. E ci riesce, alle spalle di Fuga di Notte Sun, terza posizione lungo lo steccato per Felipe LL. Lancio in 14 e mezzo da parte di Fuga di Notte Sun in vantaggio su Firecracker, mentre in terza posizione scende Fuoco LZ sui problemi di Felipe LL. Cavalli qui davanti alle tribune con Firecracker che prova ad uscire dalla scia di Fuga di Notte per dare il cambio all'avversario, all'avanguardia. La cosa sembra riuscire ad Antonio Vitiello che scivola a condurre dopo 600 metri in 42-4. Veloci, i primi due hanno preso un po' di vantaggio nei confronti del gruppo capeggiato da Fuoco LZ. Prova a migliorarsi anche Flash LZ, attacco del paletto di metà gara in 58-1 da parte di Firecracker in vantaggio sul penultimo rettilineo, sempre su Fuga di Notte, poi Fuoco, quindi Flash LZ all'esterno Floschar, chilometro che se ne va in 1-13-3 da parte di Firecracker e Antonio Vitiello in chiaro vantaggio nei confronti di Fuga di Notte Sun che accusa sul parziale, sposta Fuoco LZ dalla terza posizione, attacco dei mille due in 1-29-1, 15-7, l'ultimo paletto di Firecracker che viaggia sempre in costante vantaggio sul gruppo. La regia inquadra il cavallo in testa per cui io non so dirvi null'altro. Firecracker è in vantaggio, a largo c'è Floschar che prova ad andare su Fuoco LZ, retta d'arrivo, Firecracker ha chiuso la partita nei confronti di Floschar, Fuoco e finisce bene anche il 6 di Francis Dehari, Firecracker, Floschar, Francis Dehari, quindi per i numeri 4-10-6, io sul cronometro ho 2-1, un filo scarso, chiusura a rotoloni per Firecracker TC, il training di Giuseppe Citarella, la scuderia Michales alla proprietà del Fio di Village Mystic che sigla il successo alla quinta di Foggia.